buonasera e buon sabato ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale in apertura parliamo di un problema che affligge i piccoli comuni quello della mancanza cronica di medici di base si tratta di una questione annosa e come sapete il piemonte è terra di piccoli comuni di aree marginali e montane dove questo fenomeno si fa sentire non poco ebbene da giugno gli infermieri di comunità dovrebbero dare una mano a risolvere il problema soprattutto in aree marginali molto vaste come quella della valsevia sentiamo gli abitanti della val sermenza e della val mastallone da tempo senza medici di base potranno presto contare su una nuova figura che avrà il ruolo di sentinella del territorio l'infermiere di comunità il servizio verrà attivato da giugno infermieri specializzati saranno disponibili presso gli ambulatori del territorio sostituiranno i medici di base nella prescrizione delle ricette e anche nella valutazione dei pazienti in caso di necessità grazie alla dotazione degli strumenti di telemedicina potranno collegarsi direttamente con i presidi ospedalieri e quindi richiedere l'intervento dei specialisti oppure inviare i pazienti con trasporto gratuito tramite flexiblus alla casa della salute di varallo a sua volta potenziata in diversi servizi specialistici come la cardiologia la pneumologia la diabetologia per controlli più approfonditi l'infermiere di comunità sarà anche disponibile per servizio a domicilio laddove necessario lo stesso servizio verrà fornito anche in balsessera a coggiola territorio dei servizi socio assistenziali dell'unione montana balsesia che è il soggetto che si è attivato per riuscire ad ottenere in collaborazione con l'asla di vercelli questa soluzione che viene definita una risposta concreta ai bisogni dei cittadini ai quali non si volevano proporre soluzioni tampone in questo momento si parte in via sperimentale poi verrà stabilito in modo definitivo l'organizzazione del servizio quindi orari di presenza modalità di accesso con l'obiettivo di creare un servizio stabile ed efficace modulato esattamente sulla base dei bisogni dei cittadini e dalla balsesia ci spostiamo in città con le previsioni occupazionali per il quadrante novara vercelli verbania biella sentiamo sono 5.480 contratti programmati dalle imprese delle province di biella novara vco e vercelli per il mese di aprile 2022 poco più del 23 per cento delle entrate previste a livello regionale nel complesso le previsioni occupazionali sono 1080 in più rispetto al mese di aprile 2021 un dato influenzato soprattutto dalla domanda del bco e del novarese mentre vercelli e biella al contrario segnano una diminuzione delle entrate programmate tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono la quota limitata di imprese che esprimono un fabbisogno occupazionale l'alta percentuale comunque superiore al 70 per cento di contratti a termine e la richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori in linea generale sono i settori dei servizi alle persone del commercio del turismo e ristorazione a esprimere una parte consistente dei fabbisogni occupazionali nelle quattro province del quadrante queste sono solo alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino monside del sistema informativo eccelsior realizzato da union camere ampal associazione dei papà separati torna ad organizzare iniziative di sensibilizzazione ogni quarto giovedì del mese sentiamo tutti i dettagli la terza area organizziamo incontri di auto mutuo aiuto gruppi di cinque o sette persone con l'assistenza di psicologi e di esperti allo scopo di sostenere quei genitori che si trovano in difficoltà nella gestione emotiva e psicologica della separazione e delle sue conseguenze ad esempio alla gestione dei figli questa attività si avvale anche di un lavoratorio di psicoteatro a volte è molto divertente i genitori si rivolgono solitamente all'associazione papà e mamma separati per un supporto e un aiuto nelle questioni legali e formali emerge però sempre più spesso anche un bisogno più profondo quello di trovare nuove sicurezze e aiuto anche dal punto di vista morale e psicologico quarta area formiamo da diversi anni un servizio di meditazione familiare questo servizio vuole essere un accompagnamento realizzato con l'ausilio di professionisti qualificati per quei genitori che si rendono conto che è sempre possibile trovare una soluzione serena proprio nell'interesse ai figli quinta area è un altro servizio importante psicologia giuridica sempre più utilizzato e necessario se non addirittura l'unico strumento per definire oggi un profilo sulle relazioni intrafamiliari dove il tribunale nomina la CTU noi consigliamo la gestione con un consulente di parte le casistiche più frequenti ad esempio sono a seguito della separazione dei genitori dove viene limitato il diritto dei figli a frequentare il genitore escluso oppure addirittura con la sottrazione dei figli ad entrambi i genitori se si ritiene che non siano genitori responsabili la sesta area ultima da tempo siamo solidali tra associazioni con la creazione di reti che si occupano di minori perché pensiamo sia fondamentale l'azione di condivisione e di crescita del volontariato nel campo specifico a tutela della famiglia Andiamo a Torino, biglietti esauriti per la finale di Eurovision Nuova caccia al biglietto per l'Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio da giovedì mattina alle 10 è disponibile una seconda tranche di biglietti per tutti gli spettacoli della Kermes Canora ma in meno di un'ora la finalissima è andata esaurita Gran finale, ora esaurito ha twittato l'account ufficiale di Eurovision ricordando che sono invece ancora disponibili i tagliandi per assistere a tutti gli altri show che animeranno il palco del Pala Olimpico Ed ora come ogni sabato spazio a QCAP la rubrica del gusto a cura di Jacopo Fontaneto scopriamo la ricetta golosa di oggi Buongiorno sono Liliana della Fattoria Canale l'agriturismo oggi vi proponiamo tre tipologie di risotti fatti con la bandiera italiana verde, bianco e rosso uno è con le ortiche, uno è con le pere e uno è con le barbabietole li mantecheremo tutti con il formaggio appena muto dell'azienda agricola Il Ronco la base è uguale per tutti per cui tosteremo il risotto con vino bianco e cipolla dopodiché per ognuno metteremo o le ortiche o le pere o le barbabietole questo sicuramente all'inizio per cui un po' di ortiche se volete farlo con le ortiche un po' di pere se volete farlo con le pere e le barbabietole se volete farlo con le barbabietole il brodo è esclusivamente vegetale fatto con le verdure per cui cipolla, carote, sedano per un paio d'ore cotte finché non vedete che vede un bel brodino coprite il vostro risotto totalmente con il brodo finché non verrà a cottura se vedete che il risotto è ancora crudo aggiungerete ancora un po' di brodo fino a che non sarà cotto dopodiché impiattate fate la vostra fonduta con il formaggio appena muto che non è altro che prendere un pentolino mettere il vostro formaggio appena muto aggiungere ancora un po' di latte in modo che questo si fonda e poi lo metterete sopra al vostro risotto abbiamo utilizzato il nostro formaggio appena muto anche per mantecare in modo che il sapore venga più omogeneo nel risotto della barbabiettola abbiamo aggiunto un po' di prosciutto crudo buon appetito il vino di oggi lo scegliamo dalla cantina Zanetta un bianco piemontese l'erbaluce di caluso secco e armonico è un gran compagno di risotti ma anche carni bianche torte salate e pesce alimenti fermentati guida la preparazione fai-da-tè di lievito naturale, yogurt, sauerkraut, kefir, kimchi e molto alto di Charlotte Pike, editore Red dopo una parte introduttiva su ingredienti metodi di conservazione dei fermenti ovviamente le attrezzature che non sono moltissime il libro scorre tra foto e ricette dando molto spazio alla cucina etnica ma anche ai dolci natalizi il sapore di Roma è l'ultima uscita di Guido Tommasi, editore gusti nuovi e ricette dimenticate di un'antica città scritto da Katie Perla e Christina Gill metti due americane nella città eterna che la ha adottate e ne esce un libro che è un viaggio di scoperta tra le ricette più rappresentative della cucina romana suddivise per tema con alcune particolarità come la matriciana estiva e i grandi intramontabili classici dal canzimperio ai suppli transitando per il ghetto testaccio la cucina ebraica all'agnello il quinto quarto un libro decore piccola storia dei tagliarini di Luciano Bertello nuovissima uscita di Slow Food editore che indaga in un viaggio affettuoso l'esegesi di un piatto povero diventato ricco dalle origini della pasta che si rintracciano nel lontano medioevo e forse anche prima al passaggio della tradizione rurale al tempo post-industriale e a un presente che sfonda la porta delle cucine gourmet un piatto che oggi è democratico e piemontese che davvero più non si può il grande libro dei profumi a cura di Jean Doré per le edizioni Gribaudo un nuovo volume per una cultura olfattiva che è anche molto utile per chi si vuole dilettare nell'arte della gastronomia pensiamo agli aromi di un cibo e di un vino tra storia chimica e distillazione questo libro aiuta a capire i segreti anche se non nasce come prettamente legato al mondo della cucina e ciò lo rende ancora più prezioso nella nostra libreria è tutto la linea passa a Weekend Sport grazie per essere stati in nostra compagnia buona serata e buon fine settimana